Il Consiglio Comunale di Pratola-Pelinia rispinge l'ordine del giorno sull'obbligo a chi richiede l'uso di spazi pubblici di firmare una dichiarazione di antifascismo quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione. La mozione è la stessa civica, sta rappresentata dalla minoranza, ma non ha trovato accoglimento. Non è combino delle amministrazioni comunali fare l'esame di democrazie, partiti e movimenti e le associazioni che richiedono gli spazi, ha sottolineato il capogruppo di Pratola-Bellissima in tonileone, poiché esistono le norme primarie della Costituzione e quelle dell'ordinamento giuridico che prevedono precise sanzioni e perseguono penalmente chi fa propaganda di ideologie fasciste e naziste. Il Comune di Pratola lascia la Costituzione, le leggi dello Stato democratico, la disciplina di aspetti così delicati. Tanto è bastato per suscitare le prime polemiche, soprattutto fra i firmatari dell'ordine del giorno. Su Facebook la consigliera di Pratola insieme, Alessandra Tommasilli, ha postato la storia dei prigionieri dell'ex Campo 78 di Fonte d'Amore proprio all'indomani della saluta consigliare. invierando tutti a ricordare quei momenti. Nel corso del Consiglio Comunale sono state approvate con i voti della maggioranza alcune variazioni al bilancio. Per una spesa di circa 4.000 euro, nuovi giochi saranno installati nella villetta di zona Capocroce, in sostituzione dei vecchi non più utilizzabili dei bambini. Approvato con i voti di tutto il Consiglio Comunale, il nuovo piano delle emergenze, illustrato in aula dal Vice-Sindaco Nunzio Tarantelli, con la previsione di specifiche zone di ammassamento, accoglienza e attesa. Grazie. Grazie.